Un allestimento ardito per questa mostra nei nostri spazi aulici, cosa ne pensa il nostro vice sindaco di questo accostamento così particolare? È meraviglioso, anche perché è ardito, è una via di mezzo, ma in realtà è stupendo, perché rappresenta bene l'impegno anche del nostro ente per quello che riguarda la promozione del nostro territorio. Primo Levi è stato un cittadino del nostro territorio e come tale un nostro rappresentante degno di essere presente qui in questo palazzo per raccontare la sua storia e per raccontare ai giovani quello che è successo perché non si deve più ripetere.